Questa battuta d'arresto però non ci ferma perché noi siamo sicuramente stati stritolati da logiche politiciste e da giochi tattici di persone peraltro che hanno dichiarato una cosa e poi nel voto segreto ne hanno votato un'altra. Infatti sono quei voti se fossero stati spostati, perché noi sulla carta avevamo una maggioranza anche abbastanza netta, il problema è che appunto il fatto che alla Camera c'è stata una grande maggioranza, una forte maggioranza che si è sfilata poi al Senato, è chiaro che questo ha portato al risultato che ha portato. Ora questa battuta...